Il trofeo successivo messo in paglio dall'edizione 1974 e che viene assegnata ancora oggi fu ideato e disegnato dall'orafo e scultore italiano Silvio la risposta del portiere sul colpo di testa Germania che parte con questi 11 come ci mostra la grafica e solo l'impressione tecnico da scelto prova a sorprenderlo risultato che si blocca subito 3 minuti di gioco sono in vantaggio ho scelto il Brasile perché mi trovo a mio agio con i giocatori brasiliani la mia ultima team e allora la Germania è un'ottima squadra non dimentichiamoci che è la campione in carica dunque rimessa laterale per il Brasile Neymar Mesutusil Müller Werner che gol attivarete evidentemente erano ancora con la testa a festeggiare il gol del vantaggio un calo di concentrazione che si è rivelato fatale è una grande partita che se possibile adesso diventa ancora più interessante siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1 Casemiro tentativo del Brasile Gabriel Jesus fermano la pallata avversaria ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone Marcelo Paulinho grande gol grande gol l'ho visto l'inserimento di Paulinho ma che anticipo fatto siamo avanti ancora vediamo un po' cosa succede la Germania è sotto nel punteggio Kimmich Müller da posizione laterale Hector Ozil l'anticipo sul pallone di Ozil Gabriel Jesus Bello bello grande azione 15-13 gol veramente molto bene perfetto adesso questa partita assegnano anche Gabriel Jesus siamo 3-1 magari non finirà così bella si avvicina all'area si Mosin respinge il difensore alla vagate che che papera spazio per il cross bravo qui il difensore che spazza via abbiamo rischiato per una cagata ha scelto il male minore concedendo il corner ma cross l'impressione che l'abbia impattata con la parte alta della testa non con la fronte è stata fuori una conclusione inguardabile l'arbitro lascia giocare il Brasile norma del vantaggio buono un anticipo del difensore Mesut Ozil Sané c'è spazio per i tedeschi lungo l'auto cross in mezzo vediamo se riesce a liberarsi per il tiro ma c'è dal culo di cross che arrivava dalla fascia ha trovato un gol spettacolare tiro di prima intenzione e niente una fila per il potere guarda la scelta qui possiamo rivedere meglio il gol della Germania non sembrava una conclusione irresistibile forse il potere si è fatto sorprendere tutto bellissimo il cross della sinistra ha dosato la perfezione e ovviamente la conclusione dell'attaccante un gol da dividere la metà con chi ha fatto l'assist molto bella la conclusione si Pier hanno sfruttato l'occasione è riuscito a interrompere la trama con un buon intervento buona rinquezione qui opportunità palla sul palco incredibile però il gioco è fatto così e ti dà l'occasione del contropiede perché in calcio real il gioco è fatto così è tutto in contropiede in velocità ma che sarebbe stato per il gore quindi però ragazzi le due squadre sono di nuovo in parità possibilità di contropiede spazio per andare si aprono spazio hanno l'occasione per passare in vantaggio 4-3 passano a condurre col gol che cambia inevitabilmente il tema tattico del match vedremo se troveranno spazi nelle ripartezze un solo gol di vantaggio è un po' troppo fuoco da difendere considerando quanto manca da giocare partita incredibile come lo sfrutteranno potrebbe essere l'occasione giusta per trovare in pari il tocco in mezzo di Osil attento qui il difensore che allontana pressi sul portatore di palla ripartono in campo aperto c'è il pallone buono in tocco di Neymar occhio al pallone giusto bella 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 l'azione rischiando solo davanti a me sbagliando ho fatto questo tiki-taka e lui si è ritirato quindi partita vinta tutto sommato ho giocato anche bene anche se anche il mio versetto è stato cinico bene noi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi